Io non gli avrei mandato neanche il messaggio perché ho chiamato direttamente un altro, non è prego un cazzo. E chiama un altro, telefona qualcuno. Senza tanti avvertimenti, tanti avvertimenti che abbiamo avuto. Chi è che ha ad accendere? Mi sono dimenticato di prenderlo qui. Maestro anche di Piva. Ma che giorno la vendita pure? Lui sarai maestro. Dovete scusate ragazzi? Sto su una situazione. Scusate, lo posso dire? Scusate, lo posso dire? Grazie a tutti. Grazie a tutti.